Nina Soldano è Marina a Un Posto al Sole condividi questa notizia novità nel 2018 di Un Posto al Sole già vi abbiamo parlato del rientro in scena dell'amatissimo Francesco Vitiello e dunque del suo, Diego Giordano, che già dalle puntate di Natale tornerà ad animare la sopa dopo un'assenza di tanti anni. Ma, se ci leggete di frequente, già sapete che non finisce qui, di recente vi abbiamo anticipato infatti che un nuovo ruolo femminile romperà a breve in Upa se si tratta di un personaggio piuttosto importante perché da quel che se ne sa finora avrà tutte le caratteristiche di una vera e propria Dark Lady Spoiler Un Posto al Sole Una popolarissima attrice si aggiungerà presto al cast Al momento non c'è ancora possibile svelarvi il nome dell'attrice che impersonerà la new entry ma possiamo segnalarvi in anteprima che dovremmo vederla in scena già nella prima fase del nuovo anno Si tratta di un'interprete molto popolare, abituata a calcare i palcoscenici teatrali con grande successo ma che ha ottenuto sempre un ottimo riscontro anche in tv, avendo partecipato a numerose fiction Se tanto ci dà tanto, voi lettori di tvsoab.it la conoscete già, in attesa di potervi rivelare chi darà il volto alla nuova Dark Lady di Un Posto al Sole Aggiungiamo solo che la donna in questione potrebbe avere parecchio a che fare con Marina Nina Soldano Si preparano tempi difficili per la Giordano Presto ne riparleremo, da non perdere diventa fan della nostra pagina a Facebook su un posto al sole Ecco l'indirizzo https www.facebook.com Un posto al sole su su app attenzione ai telegram sul tuo smartphone Allora iscriviti al nostro canale per essere sempre aggiornato su tutte le anticipazioni Ecco l'indirizzo http www.telegram.metvsoab Vi ricordiamo che tutte le notizie sulle anticipazioni di Un Posto al Sole sono qui Le trame delle puntate, invece, sono qui Condividi questa notizia